L'edizione del centenario della Coppa d'America di Calcio comincia subito con il verdetto più atteso. La Colombia, una delle favorite di questo torneo, vince la gara inaugurale battendo per 2-0 negli Stati Uniti la formazione a stelle e strisce guidata da Jürgen Klisman. L'incontro si è disputato a Santa Clara in California. I gol sono arrivati tutti nel primo tempo, al settimo con Zapata e poi con James Rodriguez al quarantunesimo. Dunque dopo la giornata inaugurale ci sarà grande attesa in la notte del 5 giugno per gli esordi di Brasile ed Ecuador che fino a questo punto, quest'ultima squadra, è stata la vera sorpresa nel girone di qualificazione sudamericano per i mondiali del 2018. Campione in carica ovviamente è il Cile. Mimo Siena, Speciale News.